Dopo i numerosi casi di legionella nella retino, alcuni dei quali mortali, la ASL Toscana Sud-Est corre ai ripari con un evento informativo organizzato e dedicato per le categorie e i soggetti interessati. Si terrà in tutte e tre le province del territorio aziendale Arezzo, Siena e Grosseto. Il fine è quello di aumentare le conoscenze in merito al pericolo determinato dalla presenza del batterio della legionella negli impianti idrotermosanitari. Negli ultimi anni si è registrato l'incremento di casi di infezioni da legionella, afferma il dottor Nicola Vigiani, direttore di area dipartimentale dell'igiene pubblica nella ASL Toscana Sud-Est. Questo testimonia come sia necessario aumentare la consapevolezza del pericolo e la capacità di gestione del rischio connesso. È quindi essenziale acquisire delle conoscenze di base per meglio comprendere il rischio legionella dalle cause di contaminazione agli effetti sugli impianti e quindi sulla salute dell'uomo. Grazie. Grazie.